L'olio extravergine di oliva toscano IGP è prodotto esclusivamente da olive coltivate in Toscana, territorio in cui devono avvenire anche l'estrazione dell'olio e il confezionamento. L'indicazione geografica protetta toscano può essere accompagnata da una menzione geografica aggiuntiva. Colline della Lunigiana, colline di Arezzo, colline di Firenze, colline Lucchesi, colline Senesi, Montalbano, Monti Pisani o Seggiano. La menzione aggiuntiva si ottiene se la produzione avviene in luoghi e con varietà di olive determinate in modo rigoroso nel disciplinare. La raccolta delle olive avviene direttamente dalla pianta, con mezzi meccanici o brucatura. Le olive vengono lavate con acqua. Gli impianti di molitura autorizzati a lavorare le olive sono iscritti all'organismo di controllo incaricato. La presenza dell'olivo in Toscana è attestata fin dalla metà del VII secolo a.C. L'olivicoltura si è diffusa in molte zone della regione a partire dal tardo medioevo e oggi la coltivazione dell'olivo è una caratteristica dell'intero territorio toscano. L'olio toscano IGP ha un colore dal verde al giallo con variazione cromatica nel tempo. All'olfatto ricorda profumi vegetali verdi con sensazioni di oliva, carciofo, erba falciata o mandorla. Mentre al gusto è sempre presente una nota amara più o meno evidente e sensazione di piccante in armonia fra di loro. L'olio toscano IGP è versatile e ideale per condire verdure crude e cotte, ma anche per minestre, zuppe di legumi, pesce e carne alla griglia, fino ai formaggi. Il consorzio dell'olio toscano IGP ne garantisce l'autenticità, grazie al contrassegno apposto su ogni confezione. Basta infatti inserire il codice impresso e la capacità in litri sul sito www.oliotoscanoigp.it nel box della tracciabilità per scoprire chi ha coltivato le olive, chi le affrante e chi ha imbottigliato l'olio.